Grazie a tutti. Io chiedo scusa, sono più semplicemente commosso, anche perché la piettina mi ha contadato, e siamo qui oggi riuniti per festeggiare i 90 anni del Polesio Filippo. Grazie a tutti. Anni di docenza all'INSEF ho portato anch'io un attone, un piccolo contributo al progresso della nostra disciplina, perché il principio cui ho sempre informato tutta la mia vita, è che chiunque venga chiamato a ricoprire un posto di comando o si ritrovi comunque ad occupare una posizione che comporti delle responsabilità nel lavoro, nella scuola, nella società, deve essere sempre di esempio a coloro che gli vengono affidati e che gli si affidano. Ed è per tale ragione che la mia storia, come quella di coloro tra i miei coetanei che scelsero di operare nel campo dell'educazione fisica, inizia da quando eravamo giovani studenti a Roma, perché è giusto si sappia che anche nel difficilissimo, tragico periodo conseguente alla caduta del fascismo, dal 43 al 45, un gruppo di accademisti della Farnesina si è abbattuto con onore per la libertà della patria. 1943-2012, quasi 70 anni di storia, anni che hanno segnata la trasformazione e l'evoluzione dell'educazione fisica italiana, anni troppo importanti per parlarvene di genito, abbraccio, come ho sempre fatto durante le mie lezioni all'ISER. Consentitemi una volta, l'ultima, di leggervela, la mia, la nostra storia, un po' autobiografica, la storia dell'educazione fisica in questi ultimi 70 anni. Parto da lontano. Quando avevo ottenuto la licenza della scuola media-inferiore, mia madre, che mi faceva anche da padre, perché papà era in Africa orientale, c'era la guerra allora, mi chiamò da parte per dirmi, senso bravo, Sergio, soldi in casa per farmi studiare tutti e tre, io e le mie due sorelle, non ce ne sono, ma se sei disposto a continuare gli studi a Roma, forse una via d'uscita, sempre che tu riesci a vincere una delle 300 borse di studio che l'opera va lì e la metti in palio, c'è. Ora, ma per me se più da giovane avevo in testa l'idea di diventare o professore di lettere o giornalista, e poi il destino mi ha fatto prendere la strada dell'educazione fisica, ma se torna sempre dietro me lo prenderei. Avevo allora il grado di cadetto, ottenuto frequentando due campi estivi Dux, guardate che eravamo tutti allora così, anche quelli che adesso hanno cambiato bandiera. Gli presenterai il concorso con poche speranze di superarlo, i concorrenti erano 2000, venne invece ammesso e debbi così modo di completare dal 37 al 40 il triennio di scuola superiore a Roma, presso il Collegio dell'Esoluto Italiano dell'Ettorio. Come alpino e come uomo. Una tarda ricordo per la sua lezione magistrale, grazie ancora. E' emozionato. Grazie per la sua. Grazie. 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 Grazie.